Proficuo incontro tra il sindaco e i commercianti del centro cittadino nella giornata di sabato. Ringrazio l'accoglienza che hanno avuto i commercianti del centro, dichiara Coppola, soddisfatto. Le ho trovati determinati, per questo voglio dirgli che la richiesta della riapertura del centro cittadino non è un tabù. Per me tutto è valutabile, dichiara il sindaco. Rimarrà isola pedonale, ma in momenti deserti, come nei giorni infrasettimanali e invernali, si può ipotizzare la riapertura. Dobbiamo capire come far rimanere il corso come tale, direi di passare quest'estate, e poi a settembre vedremo come mettere in campo questa ipotesi. Intanto il tour di Coppola fra i commercianti continuerà su via Pio Decimo, via Salvo d'Acquisto, via De Gasperi e via Piave. Il primo cittadino si è poi soffermato anche sulla programmazione che riguarderà l'accesso delle spiagge libere. Abbiamo cominciato a lavorare su una relazione delle spiagge, oltre a quelle già frequentate per implementarle. Un lavoro fatto grazie ai droni che hanno sorvolato tutta la costa della città e hanno preso le misure del litorale. Stiamo studiando le possibilità di utilizzo. Mercoledì ci sarà la pubblicazione del bando dell'occupazione del suolo pubblico, uno per le attività come ristoranti e bar e un altro per i normali negozi. Queste le parole del sindaco Coppola, intervenuto ieri nella diretta su Cilento Channel, riguardo l'operato svolto nella giornata di ieri.